Siamo al mercato di Arroyos, uno dei mercati storici di Lisbona, aperto nel 1940. Qualche anno fa c'è stata una ristrutturazione. Oltre alle comuni bancarelle, oggi ci sono anche ristoranti. Uno di questi è davvero speciale. Si chiama Meze ed è gestito da una ONG. Tutti i dipendenti sono rifugiati siriani. Siamo venuti a vedere come funziona e a provare il cibo. Oggi stanno facendo un workshop nel quale 13 persone stanno imparando a cucinare specialità del Medio Oriente. Assaggiamo quindi e incontriamo la gente che lavora qui. Pao Pao è un'organizzazione creata per aiutare i rifugiati, specialmente le donne, arrivati in Portogallo a trovare un lavoro. Meze è il nostro primo progetto. È un ristorante dove le donne e i giovani possono lavorare proprio come farebbero a casa, cucinando e proponendo il cibo ai portoghesi. L'associazione è stata creata quasi per caso. Eravamo a cena tra amiche. Francisca e Rita mi hanno chiesto cosa mi mancasse di più della Siria. Io sono siriana, appunto. Ho risposto il pane. Quindi tutti abbiamo pensato che avevamo una risposta e che era un buon punto di partenza per muoverci. Abbiamo lasciato la Siria in guerra. Siamo arrivati prima in Egitto e siamo rimasti lì due anni a otto mesi. Poi ci siamo rivolti alle Nazioni Unite e siamo arrivati in Portogallo. Siamo rimasti dieci mesi grazie ad un accordo con le Nazioni Unite. Mio figlio ha visto su Facebook che c'era un evento gestito da questa organizzazione e ha trovato il nome di Alà. Anche il nostro insegnante di portoghese ci aveva parlato di questa opportunità. Quindi abbiamo contattato Francisca, abbiamo aperto il ristorante e ora siamo indipendenti. Ogni volta che arriva un nuovo cliente imparo una nuova parola in portoghese. Spiego qualcosa della nostra cultura. Mi spiegano qualcosa che fanno e noi non facciamo qualcosa sul cibo, ad esempio. Condividiamo le nostre culture. Insomma, va oltre il cibo. Come piatto principale abbiamo il riso mandì, pollo meschauwi, taboulé, baba ganoush e hummus. Tornare in Siria, forse un giorno quando la guerra finirà, apriremo un ristorante a mezza lì e continueremo qui perché il mio paese è la Siria, ma il secondo è il Portogallo. Amo questo paese. Quindi abbiamo finito di cucinare e ora passiamo alla parte migliore, l'assaggio. Cominciamo con l'hummus e il pane fatti dai partecipanti al workshop. Buon appetito a tutti, o come si dice in aramo. Ciao, Anna.